Un programma offerto da... Colazione con dolci e caffè e tante prelibatezze. Qualità e risparmio, ingredienti fondamentali che troverete al ristorante d'Acqua Viva. Dolcezza, amicizia e competenza al bar d'Acqua Viva. Vi aspettiamo ad Atri, la città degli Acqua Viva. Tranne lunedì. Atri, la città degli Acqua Viva. Siamo arrivati ormai a una puntata importante, siamo alla numero 23. Alberico Di Cecco sempre presente, o meglio quasi sempre, una volta assente ma giustificatissimo per un impegno importante. Alberico, la gara di sabato a Gamberale è un grandissimo successo, ne parleremo anche in questa puntata. Andiamo con il presentare gli altri ospiti, accanto ad Alberico Di Cecco, un amico degli sportivi, perché è uno specialista della medicina dello sport. Con noi il dottor Antonio De Julis, ben arrivato dottore. Buonasera, grazie. Accanto ad Antonio, un altro Antonio che ha iniziato la sua carriera agonistica, possiamo dire, da appena 62 anni. Antonio, ben arrivato, fruttuoso. Grazie, buonasera. E poi ci spiegherà il dottore come uno può iniziare a 62 anni e ottenere anche dei grandi risultati, ovviamente nella sua categoria di appartenenza. Accanto, a sinistra e a destra abbiamo due atleti doc. Parliamo di Domenico Barbierato, che è proprio il vincitore della gara di sabato a Gamberale. Domenico, ben tornato tra noi. Tutto a posto, sì? Tra l'altro ho saputo di recente che parteciperai alla prossima maratona di New York, dove farai il tuo esordio importante, possiamo dire. Anche se hai provato qualche anno fa, però questa è la volta... Speriamo che è la volta buona. La volta buona. Alberico, partiamo da subito con il nostro amico dottore, specialista dello sport. Perché il dottore è specialista, tra le altre cose oserei dire, specialista in medicina dello sport, ma fra i suoi lavori durante una lunga carriera ha fatto uno studio sulle acque, di cui oggi andremo a parlare. Perché? Perché l'acqua è l'elemento fondamentale sia per quanto riguarda il nostro corpo sia per quanto riguarda l'idratazione proprio del nostro corpo. Però, quello che mette in risalto il dottore è che non tutte le acque sono uguali, è giusto, dottor De Iulis? Ma le nostre sono le migliori. Sì, soprattutto i quali sono le origini di questa giornata. Farò meglio il vino che l'acqua. Soprattutto sono specializzati nel vino, però anche l'acqua da noi, che giunge proprio da Farsa Martino, l'acqua del verde, insomma, è ottima. Ma, diciamo, ovviamente l'acqua della sorgente è il massimo, perché è un'acqua fortemente con la cascata ionizzata e quindi ricca di, praticamente, di elettroni, di cariche energetiche che servono soprattutto non solo agli atleti, l'abbiamo visto, ma anche ai nostri pastifici, che sprigionano. Oltre ai cereali ottimi, anche l'acqua è importante per fare uno dei, diciamo, dei prodotti cardine, diciamo, a livello mondiale. Ma in linea di massima possiamo classificare acqua ed acqua oppure come possiamo scegliere, diciamo, anche l'acqua migliore per ognuno di noi? Se uno parte con le slide, magari potremmo far vedere, praticamente... Chiediamo alla regia proprio di mandare il contributo del dottor De Iuso. Fare una carrellata, una parte... Anche lo cinquino, se può. Perché quando parliamo delle acque, e visto che l'amici dello sport è stato il mio primo amore negli anni Ottanta, parliamo della regina di tutta l'alimentazione, ma non solo del nostro pianeta, ma dell'universo. Diciamo, quel sistema, quella formula H2O, che prego di andare avanti, che, ecco, questo è il ciclo dell'acqua, praticamente l'evaporazione attraverso le montagne, eh, parla San Martino, mettiamo che fosse una maiella, l'acqua viene giù e si arricchisce di famosi sali minerali, ed ecco, dà le proprietà organolettiche all'acqua. L'acqua in realtà è un alimento, diciamo, in odore, in colore, in sapore, ma che non ha calorie, che non ha calorie, se è ben chiaro, ma che interviene in tutti i processi metabolici del corpo umano e dei sistemi viventi. Senza l'acqua non ci sarebbe la vita, questo è poco ma sicuro. Andiamo avanti, ecco, stranamente, ecco, una coincidenza, tutto ciò che avviene nel macrocosmo, cioè nel pianeta Terra, dove l'acqua è in abbondanza sulla Terraferma, rappresenta in effetti il 70%, anche nel corpo umano, i valori dell'acqua, stranamente, nel microcosmo, cioè l'uomo, è del 70%. Ovviamente, andiamo avanti un attimo, ecco, nel bambino abbiamo l'85%, man mano che avanza l'età evolutiva dell'uomo, diminuisce l'acqua, ecco perché c'è l'invecchiamento. Questo purtroppo, l'idratazione nel corpo umano è importantissima per mantenersi giovani, e per avere una buona performance nell'atleta, e per avere buone aspettative di vita per una persona. Vediamo che la quota, le percentuali dell'acqua, l'acqua rappresenta, diciamo, circa il 70%, la distribuzione, praticamente, delle proteine, lipidi e glucidi, i glucidi sono gli zuccheri 1%, i sali minerali, il 5%, e in minima quantità, non riesco a leggere bene, perché da lontano ho problemi di... Le vitamine. Le vitamine, diciamo, sono in quantità infinitesimali, ma sono ugualmente importanti. Poi i lipidi, il 13% e le proteine. Ed ecco, vediamo l'analisi, praticamente sempre la percentuale dell'acqua, per avere un'idea di quello che andremo poi a trattare sul piano fisiologico degli atleti, come la percentuale dell'acqua nel muscolo, nei muscoli sono il 75%, ovviamente anche nel cuore, che è il muscolo cardiaco, nei polmoni arrivano l'86%, nel cervello il 75% e così via. Diciamo, l'acqua è preponderante nel nostro corpo. Andiamo avanti. Questi sono i processi dove intervengono di più nel corpo umano, la digestione, l'assorbimento di nutrienti, nel trasporto di nutrienti alle cellule, la circolazione sanguigna, dove è importante, anche se rappresenta il 5%, la regolazione delle tossine, l'eliminazione delle scorie attraverso i reni, la regolazione della temperatura corporea, che negli atleti poi vedremo, si alza notevolmente, soprattutto negli atleti di endurance, di sport di resistenza, che raggiunge perfino i 39,5 gradi di temperatura, quindi l'assunzione, l'idratazione con l'acqua è molto importante per regolare l'equilibrio termico, la lubrificazione delle cartilagie, le congiunture e tutti i tessuti. Andiamo ancora avanti. Ed ecco, ci fermiamo un attimo qua, perché questi sono i componenti minori, ma per esempio un'acqua in generale, si può dire acqua minerale, ad esempio quando hai testato dal Ministero della Salute che è microbiologicamente pura, cioè non ha nitriti e non ha nitrati, i nitriti rappresenterebbero la presenza di batteri e ovviamente nelle acque devono essere zero, assolutamente negative, perché le acque devono essere microbiologicamente pure. e la componente principale deve avere non solo questi che vediamo in sovrimpressione, ad esempio la arsenica, il bar, il cianuro, il cromo, il piomo, il mercurio, bassissime, ovviamente quantità, maggior quantità il ferro, il calcio, il cloro, il sodio, il magnesio e il potassio, che sono gli elettroidi più, e il calcio che sono gli elettroidi più importanti del corpo umano. Ma questa è in linea di massima e la schematizzazione dell'acqua in generale? Dell'acqua in generale sì, perché praticamente quando si va a etichettare un'acqua minerale, ad esempio, si valuta il residuo fisso, che è la percentuale di soluti, cioè di minerali contenuti in un litro d'acqua, fatte evaporare a 180 gradi e si vede che residuo fisso ha, cioè che quantità di soluto di minerali ha quell'acqua e in base alla quantità si stabilisce dei parametri. Acqua a bassa mineralizzazione, a media ed alta mineralizzazione. Per capirci, le acque minerali con una bassissima concentrazione di minerali sono quelle che contengono meno di 50 mg per 100 ml, quelle con una media contengono circa 500 mg, cioè mezzo grammo per un litro d'acqua e quelle con alta mineralizzazione contengono oltre 500, addirittura arrivano a 1,5 g per litro. Ed ecco la differenza. E su questi parametri di soluti, ovviamente i minerali sono preponderanti, ripeto, sono il ferro, il calcio, il manganese, il potassio, il sodio e il cloro. Il sodio e il cloro intervengono nei processi del bilancio idroelettrolitico, che poi vedremo successivamente, mentre il magnesio e il potassio in particolare, ma anche altri minerali, intervengono nei processi della contrazione muscolare, importante per l'organismo quando va incontro a situazioni di affaticamento muscolare durante sport, in particolare di endurance, di resistenza. Quindi diciamo in linea di massima, anche per chiudere questo primo intervento, dove si deve dirigere la nostra scelta? Verso un residuo fisso più alto perché può essere più ricco di sali minerali oppure verso un residuo fisso più basso? Dipende prima di tutto dalla persona, cioè dall'atleta. Se praticamente è un bambino, noi andiamo incontro per esempio a un'acqua di un determinato tipo, se è una persona adulta di un altro tipo, un altro tipo, se è una persona giovane è un altro tipo ancora, ma ovviamente deve essere preceduto, a mio avviso, secondo il mio modesto parere, il tutto dall'analisi del sangue, perché noi attraverso l'analisi del sangue, ma anche delle urine, noi possiamo tastare nelle urine, ad esempio il pH della persona, quindi il bilancio idroelettrolitico se c'è uno stress ossidativo imponente, mentre nel sangue andiamo a tastare gli elettroliti e le vitamine principali, tipo il complesso di vitamina e il complesso B, che sono molto importanti e che le vitamine si dividono in idrofili e lipofili, idrofili tipo le vitamine B e l'acido ascorga, vitamina C, che sono praticamente assorbite con l'acqua facilmente, mentre le vitamine A, D e K sono lipofili e quindi vengono assunte molto lentamente che si accumulano nei grassi, che se volete vi posso spiegare vitamina per vitamina, però in senso specifico, quello che interviene nel corpo di un atleta sono soprattutto i minerali, allora è il discorso che l'atleta stessa nel sangue andiamo a valutare se c'è veramente un fabbisogno di ferro, se c'è una condizione di anemia, perché molte volte l'atleta va incontro attraverso ripetuti step di allenamento, proprio a microtrame ripetuti, che creano una rottura dei globi rossi, e là bisogna intervenire con le maturie. Con le maturie, sì, in effetti le maturie già fisiologiche nelle persone che stanno sempre in stazione retta, poi diventa ancora più, potrebbe diventare patologiche nelle persone tipo Enturanza, quelle che ha fatto Alberico, che fa Alberico, altri sportivi, però chiaramente l'allenamento, l'allenamento, concludo, l'allenamento va incontro al volume massimo di ossigeno, l'atleta se riesce a raggiungere oltre l'80% del volume massimo di ossigeno capace e la differenza arteriovenosa di ossigeno aumenta dal 15%, supera il 15%, possiamo parlare di un atleta che può andare incontro a una certa prestazione, perché l'atleta che si misura attraverso le gare, già sa, con gli allenamenti, attraverso magari le visite sportive o la guida di preparatore idonee e medici dello sport, già sa le sue condizioni, già prima di una gara. Dottor, quello che abbiamo capito, bere è anche abbastanza. idratarsi, in effetti, nei bambini è 900 ml, circa un litro, man mano che si cresce, aumenta da 1,2-1,4, fino agli adulti due litri e mezzo e nelle donne due litri. Però nell'atleta di vento, anzi, questa arrivano a perdere fino a 10 litri, quindi in quel caso, ogni 15 minuti bisogna dare quei 150, 300 ml di anni. Anche perché, prendiamo l'esempio dal dottore, non ha una ruga, e 30 anni forse l'avrà passata qualche giorno, pertanto vuol dire che beve… Ho appena 46 anni. Perciò vuol dire che beve… che beve… No, io mi idrato molto, faccio anche attività fisica, perché vivo, ho la fortuna di vivere su una pista ciclabile, mi faccio 6 km al giorno, ma per me 6 km sono già pochi, vorrei farne molto di più. Dove c'è anche una bella fontana le vicine? Eh, da quelle parti, sì. di acqua freschissima, come che conosciamo. Piazzano, Valtisangro. Antonio, tu parlando di acqua, ti sei acceso subito la lambadina, perché tu vieni da una zona dove l'acqua ha il vitello d'oro. Io ho anche un'esperienza infermieristica, e diciamo che qualcosa che ha detto il dottore, ero un po' a conoscenza, molto sommariamente. Allora, io sono qui per presentare questa… Un evento importante. Questo evento, 31esima notturna, devo dire che in Abruzzo, forse arrivare alla trentesima, 31esima lo possiamo vedere sul palmo della mano, non è che ce ne sono tanti. Diciamo che è difficile ripetersi ogni anno, ogni anno diciamo con difficoltà, su a tutti i tempi che corrono, grazie a questi sponsor… Poi c'avete un presidente vulcanico, Gabriele Pasqualone. Sì, sostituisco il mio presidente, Gabriele Pasqualone, impegnato in vari settori. Allora, questa manifestazione è riservata alla gara competitiva, e più alle gare giovanili che abbiamo fatto ogni anno, il trofeo città di penne, che è riservato ai pulcini, ai sordienti, ai ragazzi, ai cadetti. E dopo abbiamo il trofeo per le regioni, che è riservato ai giovani, ai ragazzi e ai ragazzi. Abbiamo un premio per queste qua, con trofeo, coppe, premi in… tra l'altro per il campionato regionale, sia per la categoria cadetti, che per la categoria esordiente, per il campionato regionale. Però il clou è diciamo che la competitiva, la competitiva è di 9 chilometri, quest'anno dobbiamo dire che abbiamo cambiato un po' il percorso, l'anno scorso era 4 giri, quest'anno facciamo 3 giri, facciamo un percorso, perché l'anno scorso ci siamo un po' intasati, era troppo ripetitivo il percorso, mentre quest'anno facciamo 3 giri, e includiamo il Viale San Francesco, diciamo che il Viale San Francesco è il biglietto da visita della nostra città, si parte sempre da Piazza Luca da Penne, si fa un percorso di circonvallazione, metà circonvallazione, dopo si prende questo centro storico, e dopo si esce alla Porta San Francesco. Si entra la Porta? No, si esce, si esce dalla Porta San Francesco. Si entra la Porta di sotto, si esce dalla Porta San Francesco, al contrario questa? Si esce, si esce, si esce, si esce dal centro storico, si esce dalla Porta San Francesco, si fa tutto il Viale, dopo alla fine del Viale c'è un giro di boa, però non ripercorriamo la stessa strada, perché il Viale è fatto da Viale Giardino, è una strada parallela, dove abitano 3-4 famiglie, noi prendiamo la strada parallela, che è larga 3-4 metri, e quando torniamo all'inizio del Viale, ci mettiamo in questa strada, in questa passeggiata, che abbiamo nominato a questo ragazzo, che è autore di una sfortuna all'Aquila, e prendiamo questa passeggiata, De Simone, si, De Simone, e prendiamo questa passeggiata, e ci rimettiamo nel centro storico, riusciamo a zona Portici, che è una zona che conoscono tutti, e torniamo a Piazza Luca da Penne. È una gara nazionale Fidel, fa parte del circuito Fidel, corre l'Abruzzo Wisp, sotto legge della Wisp. E questo è ripetibile per tre volte. Per tre volte, perfetto, torneremo tra poco a parlarne ancora. Tu, Domenico, sei stato a Penne, forse anche più volte? Anche più volte, l'anno scorso non ci sono andato, però... Tra le tue tante vittorie, manca Penne. No, poi Penne... Quasi impossibile? Ma no, mai dire mai, mai dire mai. Un po' difficile. Un po' difficile, perché ci sta sempre una grande schiera. Per come sta crescendo, nulla è impossibile. Nulla è impossibile. Però andiamo a vedere l'Albodoro, figura... Albirico dice, ecco figura, l'Albodoro della manifestazione. Tu, Albirico, ricordi l'anno... Quale anno? Sono molti anni fa. Molti anni fa, 90 anni fa. Ricordo che vinsi a suon di record in quel percorso, addirittura nel 97. 97. Un po' di anni fa. Un po' di anni fa. È stato tenuto parecchi anni, mi sa. Sì. Un po' di record, non lo ricordo. Tra la proposito di record, dell'altro giorno che sono andato a fare lo speaker al meeting Città di Teramo, un grandissimo meeting, mi sono un attimino andato a documentare sui record regionali, guarda caso, purtroppo dottore, ho una certa età, la memoria... Anche tu li porti molto bene, sei peggiora di me sicuramente. Sicuramente sì, appena 60. Dicevo, vado a rivedere la classifica, gli albodi, il record, le migliori prestazioni, un certo Alberico di Cecco che detiene ancora un record dalla categoria allievi. 8-23. Eh? Ma ricordavi? Sì, 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 mi ricordo. Risale all'anno... Eh, all'anno 90, più o meno, agli 90. Sì, sì. Dal 90 che resiste, resiste il record di Alberico. 25 anni fa. Domenico, tu hai vinto la sgamberalata con appena 12 secondi su un grandissimo atleta. È stata decisa, diciamo, l'ultimo chilometro. Sei riuscito a battere niente di meno che Mirko D'Andrea. Sapevo che era difficile perché il percorso era... Ma sai Mirko D'Andrea quest'anno che ha fatto, sì. è arrivato seconda alla mezza maratona di Pisa, seconda alla maratona di Napoli. Sì. E tu ti sei arrivato davanti e è arrivato seconda anche a gamberale. Qui vediamo le immagini della partenza. Sapevo che era lui la persona da battere. Il percorso è impegnativo, quindi era molto adatto a lui. Sinceramente non me l'aspettavo. Poi si è decisa nell'ultimo chilometro dove le pendenze erano un po' più impegnative. Ho provato di fatti ho visto che a un certo punto hai provato ad allungare e non pensavo si staccasse da Andrea e invece ha cominciato a guadagnare qualche margine poi ci ha creduto. Verso la fine. L'ultimo chilometro che era più in pendenza, un po' più impegnativo. Tra l'altro l'anno scorso ha vinto pure un tuo compagno di squadra sempre. Massimo Lizza. Massimo Lizza. Che quest'anno non era presente lì ma è andato a correre a Dragonale. mi sono gestito bene in discesa forse quello mi ha fatto vincere. Quanto ti aiuta avere un supporto come quello di Alberico? Tanto. Sia nell'allenamento che in gara fa tanto. possiamo dire un faro tu vieni da Fara. Dalle immagini io in discesa sono stato sempre dietro di loro mi sono gestito perché sapevo che la gara si faceva in salita quindi e quindi hai gestito bene la discesa poi hai fatto un bel allungo nell'ultimo chilometro e ti sei praticamente guadagnato la vittoria anche prima del tempo e alla fine sei arrivato al famoso muro che tra poco ci saranno le immagini del muro che non lo so ci saranno anche le immagini del muro e dici un pochettino come è anche sul muro si è impegnativo però alla fine piano piano ci sono riuscito qui andiamo proprio verso le fasi finali qua mi sono accorto che ho guadagnato un metro negli ultimi due chilometri però era ancora un po' presto perché non avevo grandi marchi poi nell'ultimo chilometro ci ho riprovato e è andata bene non si vede proprio la salita si riesce a vedere nell'ultimo tratto ce l'ho fatta a corrida tutta però è stata dura quando stai prima quando stai prima che riesci ci pensi neanche più di danno quando stai prima quindi insomma è da riproporre questo muro ormai è diventata la caratteristica di Gamberano domenico una domenica una domenica il signore ha preso il piatone anche lui al salire l'imperatore domenico che regge per la prodistica solidarietà a Roma che veniamo arrivare è il terzo classificato domenico ti volevo fare una domanda è una domanda stupida perché è come fare una domanda a una mamma e dire qual è il figlio preferito qual è la vittoria più bella che hai ottenuto finora io allora la mia diciamo che l'anno scorso non vende tante 9 la mia prima vittoria bella è stata la prima vera vittoria è stata Palena Lama quella è stata la mia prima anche perché correvi quasi vicino a casa è stata la mia prima bella vittoria soprattutto per la gioia di papà Pietro che ti segue sempre non me l'aspettavo è stato molto bravo anche lì ma devo fargli complimenti a domenico perché anche a gamberale sabato sera ha gestito veramente molto ha imbarato a gestire diciamo che adesso la testa fa tanta differenza e diciamo che alla fine di questa vittoria Roberto ci vuole dopo una bella vittoria una dedica altrettanto bella allora la dedica buon parole tu hai detto alla premiazione il papà non c'era perché aveva un altro impegno aveva un altro impegno di una cena dei vicini di casa che festeggiavano 50 anni di matrimonio Giovanni e Sandino si chiamano siccome loro mi conoscono da piccolino e non potevi essere presente alla cena non potevo presente alla cena gli ho dedicato quello del mio regalo vado vado vinco e dedico ho voluto a dedicare perché loro complimenti quindi tanti auguri a Giovanni 50 anni di matrimonio e non sono poco complimenti glielo ho voluto a dedicare come un pensiero perché è una bella idea quarto posto per Jacovone Diego che reggeva anche sempre lui per l'atletica Iserni la stessa società del secondo classificato a seguire Santo Vito Massimiliano dell'atletica solidale San Salvo Pilla Marciano Lozar un atleta non più giovanissimo ma sempre fortissimo l'atletica Venafro poi Carbonelli Luca e Palombaro Francesco per il settore femminile se in Abruzzo come i confini con l'Abruzzo e il Molise ha vinto un abruzzese poi secondo un molisano terzo un atleta della società laziale per il settore femminile ha spadronizzato le ragazze della molisana perché al primo posto troviamo Nicola Pagliuso secondo posto per Ilaria Novelli Runnersi Termoli e Cus Molise terza Lidia Scenna seguiremo Dio Rosalba Muir Deniz Limongi Filomena Zurlichiara Pomante Cinzia è qui la Fart Sport del presidentissimo Francesco Di Crescenzo è riuscita questa società a piazzarne ben tre su otto per il settore delle classifiche per società la Fart Sport come dicevamo è stata la numero uno poi a seguire l'atletica Molise Amatori la sorgente di Fara San Martino la Runnersi Termoli Lupi di Abruzzo il Crampo Runnersi Chieti Polisti Frentani e chi più ne ha più ne metta dopo la dedica torniamo di nuovo al nostro caro dottore per dirci che Alberico andiamo nel pratico dottore la classica domanda che forse ti avranno fatto tantissime volte ma quanta acqua va assunta quotidianamente in linea di massima e quando va assunta durante i pasti c'è chi dice assolutamente no assolutamente sì qual è il consiglio che diamo ma non esiste una regola generale è chiaro che tutto dipende da individuo da stile di vita certo parliamo sempre di podisti parliamo di podisti perché parliamo sempre il nostro se parliamo di podistica che praticamente la corsa è la corsa che significa che mette in modo tutti i muscoli del corpo umano dove c'è un fabbisogno di minerali molto alto è ovvio che il pieno di energia va fatto diciamo con soluzioni ipertoniche prima di una gara quindi uno già l'atleta o l'aspirante atleta deve presentarsi preparato a questa evenienza e non aspettare durante la corsa di fare diciamo il pieno diciamo in linea di massima si dice ma forse è così mai sentire lo stimolo della sete esattamente perché uno venti minuti prima di iniziare la gara deve concludere di bere perché altrimenti lo stomaco ha difficoltà di svuotamento durante la gara se uno inizia subito la gara appena dopo che ha bevuto quindi bere quotidianamente durante i passi almeno 500 ml di acqua ci sta chi ne beve anche di più ma dipende dall'abitudine però se si beve di più durante un pasto bisogna masticare molto lentamente i cibi altrimenti la digestione diventa difficile se invece uno ha l'abitudine di mangiare come fanno molti e poi di bere si può fare purché la quantitativa di acqua sia intorno ai due litri e mezzo al giorno per una donna dovrebbe essere a meno di due litri nelle donne invece che sono in gravidanza o che allattano bisogna aggiungere qualcosa in più bisogna stare attenti però le soluzioni si dividono in tre categorie ipertoniche isotoniche e ipotoniche questi sono i cardini principali ipertoniche dove c'è un concentrato di minerali ovvero di soluti per ogni litro d'acqua parliamo attraverso quel gradiente che abbiamo noi e possiamo fare anche le aggiunte attraverso dei sistemi ovviamente sempre di prodotti regolari normali tipo i sali minerali potassio e magnesio il magnesio ad esempio interviene in tutti i processi metapologici che sono trecenti nel corpo umano quindi in attività del muscolo eccetera per evitare i crami durante una fatica bisogna prendere potassio e magnesio questo è fondamentale sono i minerali principali sono i minerali della vita la contrazione muscolare per evitare l'affaticamento perché quando c'è un caso di acidosi metabolica cioè praticamente l'atleta in salita comincia a iperventilare cioè aumenta la frequenza respiratoria e perché ha aumentato la percentuale di anidride di carbonio nel corpo umano questo acido deve essere eliminato e quindi il corpo umano mette in moto dei meccanismi di compenso perché durante la prestazione sportiva le urine si bloccano perché uno deve preservare i liquidi altrimenti perché già c'è la suturazione attraverso la suturazione la suturazione è ipotonica cioè ha una concentrazione di minerali inferiore a quella del plasma se noi durante la gara gli diamo un prodotto ipertonico succede che quello praticamente lo shunt dei liquidi va verso l'intestino e uno si blocca invece gli dobbiamo dare una soluzione ipotonica a bassa concentrazione di minerali varò a bere spesso cioè ogni 15 minuti gli diamo 150-300 ml durante la gara però una soluzione di bassi minerali basta poco minerale perché quello poi fa da shunt perché essendo il plasma più ricca avendo una smolarità più ricca di concentrazione di solute di minerali è un errore bere i prodotti che vanno in commercio durante la gara no io direi di evitare i prodotti ipertonici semmai il pieno lo fai prima o appena dopo la gara per ripristinare l'equilibrio ma piano piano perché ci si possono essere anche dei contrasti in effetti non bisogna abusare dei minerali al limite si potrebbe anche prendere qualcosa in più perché durante la gara bisogna prendere almeno 3-4 volte quello che è la razione normale praticamente di minerali mentre di vitamine bisogna stare attento soprattutto a vitamine A perché hanno fatto gli studi che ci sono delle controindicazioni anche molto gravi quindi bisogna stare attento all'abuso di vitamine nell'atleta ecco perché secondo me deve essere tutto monitorizzato dall'atleta che un individuo è sempre a sé stante in base all'età all'età varia da un medico dello sport o uno specialista ma come possa fare un atleta iniziare a gareggiare a 62 anni dopo non aver mai fatto niente sport nella sua vita è semplice la corsa viene dalla camminata se ha fatto una vita regolare il signore è sicuramente un individuo sano ha sempre fatto una vita regolare ha sempre mangiato una dieta bilanciata equilibrata e bilanciata una dieta mediterranea che è la migliore al mondo parliamoci chiaro ha sempre fatto una vita regolare è chiaro che una 62 anni avendo una capacità cardiocircolatoria notevole cioè normale può acquistare pian piano perché durante il corso di allenamento non è che si raggiunge ad esempio l'ipertrofia muscolare raggiunge subito dopo due mesi ci vogliono anche anni però dopo un anno di allenamento uno è già in grado di fare degli esercizi resta la curiosità di sapere se avessi iniziato prima con queste doti che stai esprimendo adesso che cosa avrebbe potuto fare poi c'è il talento individuale che ci sono dei talenti è un campione non lo sei adesso ma così sono dei rimpianti vuoi aggiungere qualcosa per il turno di penne 30 secondi sì allora gli amatori podisti pennesi nel quale faccio parte diciamo che hanno onorato tutte le manifestazioni e ci aspettiamo una massiva partecipazione soprattutto delle società degli atleti ma anche delle famiglie perché io il podismo lo valuto una cosa raccolta non è come la bicicletta la pescara frangavilla è molto dispersivo un giro due giri siamo là allora preferisco che verrebbero anche le famiglie e questo sarà proprio una sferzata di energia al paese e poi nei paesi belli agli sponsor e anche all'organizzazione e questo sarà proprio un tassello in più da mettere in questo in questo mosaico che dura da 32 anni per l'organizzazione della prossima notturna certamente grazie grazie Antonio grazie a voi domenica domenica sabato anzi domenica domenica prossima ci sarà la terza edizione della maratonina farese guarda caso l'anno scorso l'hai vinta tu ci sarai quest'anno penso di sì è il giorno prima che è venerdì è stata anticipata la gara di Cerno e di Pineto non più sabato ma venerdì guarda caso anche il vincitore della passata edizione è Alberico di Cecco siccome di gara ne parliamo solo di due qualora ce ne fosse stata una terza e domenica Antonio potevi essere tu stato il vincitore della passata edizione Cerno abbiamo detto organizzazione curata dalla podistica della triatico e siamo arrivati alla ventunesima edizione al vincitore della passata edizione Alberico di Cecco quest'anno ci sarai? penso proprio di sì appuntamento a tutti a Cerno e di Pineto a Cerno e di Pineto la gara fa parte del circuito Corri la Bruzzo Wisp si assegna anche i punteggi per il campionato provinciale di corsa su strada il nostro amico Vincenzo Micolucci con l'intera famiglia e all'organizzazione ebbene allora tu sarai invece domenica a Fara ma non a Fara San Martino ma a Fara mi piace perché sicuramente lei avrà da darci tante altre cose ma Alberico sarà di nuovo nostro ospite per andare a farci anche altri argomenti tutto è energia quindi mantenendo l'energia del corpo possiamo trasmettere l'esterno grazie grazie ma soprattutto il modo in cui ci vince è anche quello importante grazie a voi grazie della vostra presenza e come sempre grazie per l'ospitalità e ringraziamo ancora sempre la Wisp dell'opportunità buona serata a tutti buonasera grazie a tutti un programma offerto da ad Atri a pochi chilometri dalla costa adriatica troverete i luoghi cult della ristorazione bar il ristorante pizzeria d'acqua viva sito di fronte al palazzo comunale vi aspetta con la cucina tipica teramana e la pizza lievitata 5 giorni della signora nunziatina ambiente tranquillo confortevole ed estate giardino all'aperto privato prima della cena un aperitivo al bar d'acqua viva e dopo cena un brindisi con i vostri amici e per iniziare la mattina colazione con dolci e caffè e tante prelibatezze qualità e risparmio ingredienti fondamentali che troverete al ristorante d'acqua viva dolcezza amicizia e competenza al bar d'acqua viva vi aspettiamo ad Atri la città degli acqua viva tranne lunedì grazie a tutti grazie a tutti